Sentite, mi dispiace, sono esausto, va bene? Non ho chiuso a occhio, Brian e il cane del vicino non mi hanno fatto dormire. Ehi là! Ehi là! Ehi là! Sei un cane? Sì! Anch'io sono un cane! Ottimo! Sì! Siamo cani! Sì, siamo cani! Siamo cani e viviamo vicini! Ehi, siete dei cani! Sì, entrambe! Puoi scommettere se siamo cani! Se ti senti così stanco, forse dovresti prendere un caffè. Sì, oppure bere una Red Bull. Red Bull? Che cos'è una Red Bull? Non la conosci? È una bevanda energetica. Ecco qui, Peter, offre la casa. Ehi, 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 ehi! Ehi, come va la festa? Che devono sono queste tende? Oh, che pazzo! Oh, arci cacchio! C'è folla qui dentro! Benissimo, così la sale più spaziosa. Ce l'hai fatta tornare? Ma dove sei stato? Ero preoccupata da morire. Ho bevuto qualche Red Bull. Qual è il problema? Ah, il mio piccolo ometto! Fatto! Wow, bravo papà, che forza! Potrei provare anche io la Red Bull. Tu mi chiedi se puoi provarla? Tu mi chiedi se puoi provarla? Chris, tieni, prendi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Prendi, 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 prendi. Picchiere lo fa così. Vado a mungere la mucca adesso. Peter, dove hai preso quella mucca? Che domanda sciocca, Alois. L'ho comprata così, avremo latte fresco tutti i giorni. Oh, 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 ci caccio, questa Red Bull è sì che è forte. Questo è ok, il prezzo è giusto. Ora giriamo la ruota. Il vincitore è Peter, quindi darà lui il primo giro. Peter, devi avvicinarti a un dollaro senza superarlo. Bene, nell'attesa c'è qualcuno che vuoi salutare? Sì, voglio salutare Lois, Brian, Chris, Tiwi, Mac, Joe, Bonnie, Quagmire, Cleveland, Moore, Simus, Adam, Dottor Eftman, Bruce Carter, Barbara, Tom Tucker, Angela, il pollo gigante e il sorda laggiù. Sicuramente ne saranno felici. Wow, forza paramedici, correte! Ehi, che cosa stai facendo? Lois, tu sai dov'è la mia Red Bull? Me ne sono sbarazzata, Peter. Perché cacchio lo hai fatto? Ti stava facendo impazzire e non è una buona cosa per te. È per questo che le ho versate tutte sul prato. È per la sicurezza nazionale. Che cosa stai facendo? La mia Red Bull personale. Lois non può impedirmi di sperimentare i tanti frenetici alti e bassi che il mio corpo richiede. Aspetta, aspetta, stai aggiungendo il kerosene. Peter, è una follia, ti distruggerà il fisico. Il kerosene è un carburante, Brian. La Red Bull è un carburante, il kerosene è uguale a Red Bull. Ora lasciami fare questa cosa di vitale importanza. Peter, quell'intruglio ti ucciderà. Tutto quello che non mi uccide mi rende più forte. Visto, Brian? Io mi sento belone. Peter, Peter, sei vivo? Sei vivo, meno male. Bene, allora io... Allora io non ti mangerò. Stavo per mangiarti.